Il divulgatore per eccellenza, il giornalista Rai, fin da prima dell'arrivo della televisione in Italia, Piero Angela, è l'insegnante preferito di moltissimi italiani, fin dal 1971, con la prima trasmissione TV di informazione scientifica a destinazione uomo, poi dal 1981 con il formidabile successo di Quark e di Super Quark, con la scienza in prima serata TV. A quasi 91 anni Angela si tiene sempre ben saldo all'attualità. Sui vaccini, per esempio, dice, si è detto quasi tutto. Cosa potrei aggiungere? Voglio vedere nel complesso quello che è meglio fare per tutelare la salute dei bambini. Lì c'è anche un fatto emotivo per cui si colpevolizzano delle madri, gli dice, ma come? Gli metti il tuo figlio, tutte queste sostanze chimiche, tutte insieme. Ma allora, o avete fiducia nella scienza medica, pure no. Io ho fiducia. I miei figli sono grandi, non sono più vaccinati, ma senz'altro li farei vaccinare. Mi sentirei molto colpevole se non lo facessi. Ecco il suo parere sulla scuola di oggi. La scuola italiana ha l'asticella troppo bassa. Vi faccio un esempio. In Inghilterra, se lei va in una università e fa degli esami, fa un esame, se è bocciato l'esame, lo può rifare d'estate. Se va male anche d'estate, gli dicono, arrivederci, grazie. Lei non è adatto a questi studi. Non si va fuori corso. Allora, qui l'università la usa così, come un parcheggio. Ha abbastanza severità. La scuola è diventata qualcosa di troppo, non dico superficiale, ma era anche il rapporto dei genitori con i professori. Una volta il professore era un'autorità. Io quando andavo alla scuola, temevo il professore. Qui mi diceva, oggi è Dandel Tour.